Ci spostiamo ora a Isernia perché dopo la giudicazione della gara per la realizzazione di nuovi loculi nella zona orientale del cimitero, il Comune ha affidato l'incarico per la direzione dei lavori. Tale compito è stato affidato all'ingegnere autore del progetto. Un decisivo passo in avanti è stato fatto nell'iter che porterà la realizzazione di nuovi loculi nella zona orientale del cimitero di Isernia. Dopo la giudicazione dell'intervento di realizzazione, il Comune ha infatti affidato l'incarico per la direzione dei lavori. L'iter dell'opera risale al 2013, quando in data 3 dicembre è stata affidata all'ingegnere Francesco Civardi la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, inerente alla realizzazione di nuovi loculi in adiacenza al corpo F nel cimitero di Isernia. A giugno del 2014 il progetto è stato poi presentato a Palazzo San Francesco con il seguente quadro economico, lavori per 80.000 euro, cui aggiungere altri 60.776 euro tra spese per la progettazione, per la direzione dei lavori, per il collaudatore sismico, spese tecniche, imprevisti e IVA. Nel novembre del 2014 la Regione Molise ha poi accolto la domanda per la costruzione dei nuovi loculi cimiteriali e a maggio del 2016 il commissario straordinario del Comune di Isernia, con propria delibera, ha approvato la proposta progettuale per l'importo di 145.000 euro. Considerata la carenza di loculi nel capoluogo Pentro e tenuto conto del costo complessivo dell'intervento, si era scelto per urgenza il sistema della procedura negoziata, previa consultazione ed almeno cinque operatori economici individuati tramite indagini di mercato. Di seguito è stato stabilito che il criterio seguito per la giudicazione della gara sarebbe stato quello del prezzo più vantaggioso e dunque si è arrivati all'individuazione della ditta. L'ultimo passo, prima dello start con i lavori, consisteva nell'assegnazione dell'incarico di direzione dei lavori e relativo coordinamento della sicurezza durante gli stessi. E se l'incarico di collaudatore sismico sarà ricoperto dal personale dell'ufficio tecnico dello stesso comune, per gli altri due compiti si è deciso di affidarli proprio al professionista, autore del progetto preliminare ed esecutivo.